...in collaborazione con Corto Corto, officine ferroviarie e Radio Flash. Scusi, ma come sei conciato? Cosa dobbiamo fare qua? Mi riconosce? Ma cosa vuol dire mi conosce? C'è lo spettacolo. Cosa hanno portato? Di mangiare dei cani? L'altra volta aveva la maschera di Zorro, adesso cosa... Ma ho capito, scusi, cosa significa? È una moda, che cos'è? È raffreddato, ha fatto una rinoplastica, che cos'è? Ma io inizio a aver paura. Le cose abbiamo alzato troppo il livello del programma. Ma non di casciughezza. Sì, le cose che dico sono scomode. Ma guardi che saranno scomode per lei le cose che dici. Io non voglio trovarmi un giorno con la corda al collo sotto un ponte. Ma guardi, magari si può trovare sotto un ponte, ma di sicuro non con la corda al collo. Però se vuole... Adesso non scherziamo su queste cose qua. Però se vuole la corda gliela do io. Eh, ecco l'altro. Ma cosa c'entra adesso, scusi? Ma io faccio la fine di Pino Calvi. Ma che Pino Calvi? Quale Pino? Calvi, quello del Banco Ambrosiano. Eh, quello non l'hanno trovato. Non era Pino quello? Ah, era il maestro Pino Calvi. Va bene, non voglio fare la fine... Ma lei fa la fine che gli prende un coccolone, si tolga la giacca, il cappello fa caldo. Eh, ma sono... Ma avete... Il pubblico mi ha riconosciuto. Perché essendo che ride... Io non ce la faccio più con questo pecorino che mi si è messo addosso. Meno male, meno male. È un buon segno, perché altrimenti avrebbe l'influenza. Questa è tutta lana di Somma, eh. Ma quale Somma? Non c'è più lana di Somma. È caldissimo. Sarà fallita da vent'anni. È caldissimo, vabbè. Comunque, dobbiamo fare una sigla. E se mi sono la maglia dei giovani Balilla, cosa fa? Oh, vede che si sente più a suo agio, così. Fatemi... Si faccia riconoscere, non abbia paura. Non è piacere così. No, Mau, lei scherza, no. Lei sta scherzando. Io già la scorsa volta l'ho detto. Non voglio fare la fine di Cascioggi. Ma no, ma stia tranquillo. Quello è andato in Turchia a chiedere uno stato di famiglia che si doveva sposare. Ma me non è andato in Turchia. Ed è uscito lo spezzatino di lì. Io non è che voglio che... E lei non si deve sposare. Eh no. Tra l'altro, cioè... Ma questo non si sa. Come fa a sposarsi. Questo non si sa, però non vorrei che veramente... Uno pure si può sposare, ma... No, no. Alla Svegas. Che vado a fare un cambio di residenza. E torno che c'è il brodo al posto mio. Ma sì, ma dottore, questi ceri, cosa sono diventato massone? Guardi come lo voglio. Lei non si accorge di niente. Al posto del cuore, lei è una scorreggia. È stato il suo compleanno l'altro giorno. Guardi che cosa gli hanno portato. Torcette al burro. Grazie. E spegni la candelina, spegni la candelina. Coglione, guarda cosa t'hanno portato. Quanti regali hai ricevuto per il tuo compleanno? Devi dire la verità. Ma non era questo un programma. Dobbiamo andare avanti col programma. Va bene, però dica la verità. Quanti regali hai ricevuto? Ma io non rinforzo. Ma ha detto che neanche uno. Sì. Poverà. Ma guardi, io non ti posso vedere. Io piuttosto di vedere la fine che stai facendo al Pisciano e al Mauriziano. Ancora? Basta! Ma non potete stare vicini così. Perché sei messo lì lo buono? Ma cos'è sta qua? Ma sembrate a scuola. Se non potete stare di là. Sì, sembra avere la gita col pulmo. Ma veramente? Ma scusi. Comunque l'altro giorno ho approfittato dell'Avis in via piadenza. Pure l'Avis? Io non la posso vedere. Li possiamo dare una mano. Io se no piuttosto preferisco vederti sottoterra. Sì, preferisco portarli un mazzo di fiore ogni settimana. Piuttosto fatemi cremare perché non voglio farmi mangiare dei Gianini. Va bene. Va bene, andiamo avanti così. Facciamo un programma dark, quindi. Facciamo un programma dark. Storie nere, non lo so cos'è. Ti ho portato la bolletta. È arrivata la bolletta dell'Ener. Chi la vuol pagare? Ma è vero, è vero. È vero. Chi l'ha trovata la paga. È un gioco. Fa parte del quiz. Fa parte del quiz. Guarda, guarda, 140 è il cazzo in culo. Guarda. Mi le deve pagare Bernardo. Ma dottore, mi è partito tutto male. Cosa c'entra? Cosa c'è? Prima non voleva farsi riconoscere, poi voleva... Va bene, ma io non posso sempre vivere, essere l'ombra di me stesso. Ma questo cosa c'entriamo noi? Mi sa che passa l'inverno al freddo. Se non fosse per questo pubblico saremmo disperati, almeno tanto quanto... È un mezzo disperato. Dove sono finiti i torcetti? Se ne hai già messi da parte? Li porto a casa? È proprio un cannaruto, guarda. Fa la festa con la mano. Non li tenga lì che spuntazzo tutto io. Metta un po'. Va bene. Allora, io volevo sapere se per cortesia c'è tra il pubblico Sandro Borgio. Ma chi è? Scusi, cosa c'entra adesso? Non c'è Sandro Borgio. C'è sempre a rompere le palle una volta che fa... È quello che... Tutto Sport gli ha fatto un servizio, perché tra il pubblico di roba forte uno è diventato un Iron Man. Ma lo so che lì... Tutto ciò che è Iron... È anche qualcosa di men, però... Di men ne sa, però... Di men, qualcosa di men di lei magari, certo. È un atleta, è un atleta. Allora glielo facciamo un'altra volta. Me lo dite quando viene? Ma sì, come noi lo poniamo, è chiaro. Sarebbe bello... È già. È organizzato bene. Comunque stasera, cari amici, scusate se ho iniziato così. Anche stasera abbiamo tanta carne al forno. Al forno. Al forno. Scusi. Ma è carne al fuoco. Cosa c'entra? È molto di dire, carne al fuoco. Com'è? Non è al forno. Ma non è al forno, perché non è che... Era carne al fuoco, nel senso che una volta... Cazzo, me l'avevo preparato, l'ha anche scritto. Stasera tanta carne al forno. Strano che... Quando lei vuole parlare bene, lasci perdere. Comunque tanta carne... Tanta roba. E no, perché c'è la battuta. Tanta carne al fuoco. E' uno spettacolo che è sconsigliato per i vegani. Può dire, tanta carne al fuoco è sconsigliato per i vegani. Guarda, per fare un po' lo spiritoso. Che dicono che siamo troppo seri. Va bene. Allora, vorremmo fare, prima di iniziare, tre domande per capire che tipo di pubblico abbiamo questa sera. Allora, quanti sono presenti in sala gli ingegneri che hanno passato l'esame di elettronica con Giordana, prendendo più di 18? Ma cos'alza la mano a lei? Qualcuno ha alzato? Ma lei tira a casa anche i nomi dei professori. Che ha passato diritto privato con Ferrero e ha preso almeno più di 20? Eh, sempre lei. Ah, ehi! Eh, te sei! Sì, è un paesà. Più di 20? Quanto? 20? Allora non alzi la mano. Io più di 20, deve essere 21, scusa. Va bene. Scusi, non ho capito perché lei ha fatto sia il Politecnico che... Eh già. Legge. Mi stupisco che lei metta ancora in dubbio queste cose, ma non si capisce dal tipo anche di... Voglio dire... Di caligrafia, certo, sì. Va bene. Quando hanno votato Roberto Rosso al sindaco di Torino? Qualcuno ci deve essere, per favore. Va bene. Eh, Scandere becca al sessore. L'hai votato che dava la benzina. No! Sì. Ma io... Era venuta al barco, in coesia la benzina, tu l'avevi pure. Non l'avevo... Vai, vai, vai. Non avevo più la testa, non l'ho usata per fare altro. Va bene, va bene. Che ce l'hai mai avuta, è vero, è vero, è vero, è vero, allora... Allora, chiudo, Mau, vi faccio dire l'ultimo. Vabbè, io metto un po' di ritmo, scusa. Sì, è vero, è vero, è carino, è carino. Quando hanno risposto vedendosi offrire del salame di felino, no grazie, mangio solo quelle di maiale, il felino mi fa un po' effetto. Quanti ha contato? Lei che è anche di famiglia notarile. Ma non si vede bene, perché la sala è al buio. Anche se si togliesse gli occhietti del sole, magari. Vabbè, quindi è un pubblico, diciamo, da capire. Va riegato. Va riegato, un pubblico... Sì, come i gelati. Si è fatto un'idea. Allora io vorrei fare il tentativo di cantare una canzone... Ma col torcetto in bocca? Sì, col torcetto di lato. Perché? Ma che schifo, ma... Mi hanno anche portato due dente. Rischia di soffocare, non scherziamo. Io vado a fare un tentativo. Cosa ne può fare, ma... È una cosa radiofonica, tra l'altro. Pili picchio, bullo. Che schifo, ma fa le bave. Ma scusi, ma anche per le prime file, ma non ho capito. Mamma mia, poi lo vedono. Le parole di vedi sono terrorizzate. Ma non si vergogna. Si mette un pavaglino, non ho capito. Si giri dall'altra parte, non può. Ma fa schifo proprio. Sono delle signore lì sotto. Eh, sembra che ha mangiato tutta la segatura. Non ho capito. E allora dove si ha? Allo zoo qua. Non possiamo fare questi numeri da circo, dottore. Alziamo i diretti. Ma sì, ma ormai il programma è andato a puttana. Ma ormai. Ma è stato lei a dire. La sigla, non abbiamo neanche fatto la sigla. Guarda, ma io sto andando a Ramenco e vi voglio portare con me. Ma ci vado da solo. Ma no, vi voglio. No, no, no. Ci vado da solo. Comunque. Spiripicchio con lo sfratto, residente in via Lombroso, ricercando una dimora, si poneva pensieroso, non sapendo come fare, in quel luogo di morale. Eh, ma no. Chiesa loro informazione, ma che ha ogni soluzione. Ma non poteva aspettare un attimo. Pure. Ma no. Ma cos'è? Chi ne stai prendendo? No. A noi ti porta palazzo, c'è una terra di frontiera, bella come il paradiso. E la chiamano la barriera, ci sono miglia infrastrutture. C'è una terra di frontiera, bella come il paradiso. E allora vieni a vivere di noi. Per chi ballate, è sempre estate, e dà se non le paghi se non vuoi. E chi puoi fare i cazzi nuovi, vieni a vivere di noi. E' sospedibile, è riciclabile, e per vicino scendi quello che vuoi tu. Non ridi se si vede che c'è solo gli incisivi, anche lei. Un underground o un ozzolo. E per vicino scendi quello che vuoi tu. Un underground o un ozzolo. Stare a te. Grazie. Chissà se c'è qualche donna che stasera si è fatto un pensierino vuol darmi un bacio. Mau, attenzione. Chiedo scusa, chiedo scusa. Posso dire solo una cosa? Certo. Siccome l'ultima volta abbiamo notato che tra il pubblico c'era gente che si annoiava. Sì. Allora, questa sera, perché non si annoi, le diamo... Ce la fa? ...questo piccolo gioco. Consiste nel aprirla, bisogna aprirla, senza romperla chiaramente. La scatola. La scatola. Ma si vede che è una scatola, no? Deve sempre dire il soggetto. È una scatola, va bene? E dentro ci sarà un bellissimo premio per chi riesce ad aprirla. Perciò io adesso scenderò e darò qualcuno che magari si sente annoiato. Chi si sente un po' annoiato? Ah, no, magari così. No, dovete essere sinceri, eh. Dovete vedere se c'è qualcuno in fondo. Magari è un po' presto, dovremmo farlo più. E' vero, forse le avevo detto di farlo un po'... Ah, vabbè. Vabbè. Faccia lei. Comunque, non... Eh, era necessaria sta cosa. Dobbiamo mandare la sigla ancora quella... Dobbiamo ancora mandare la sigla, ma... Era finita la sigla. Eh, no, no. Non è finita. Ah, non è finita. Vabbè, ho capito, non è Giochi Senza Frontiere, scusi. La sua gelosia sta raggiungendo dei livelli... È proprio un'invidiosia. Ecco, un'invidiosia. Madame e Monsieur... Eh? Vabbè, ha già detto. Eh, questo è signore e signore... E in Piemontese lo può dire. Piemontese, Madame e Monsieur. Ah, sì. Madame e Monsieur. Sì, guai. Monsieur Traver. Cite e cite. Sì. Radio Flash, in collaborazione con L'OFI, le officine ferroviarie, e l'OBUES, Intimo e Lingerie. Quando le buttante non sono più un fatto privato. Infatti, non lo sono mai. Presentano... Mai un po' più... Terra a terra. Ah! Presentano Robaforte, il bimestrale di cultura, costume, arte e approfondimento di Econ, con il direttore Antonio Losapio, Savino Lobue e Mao. Va bene. Ho un volume in cuffia. Ah, in cuffia. Ma sei dimenticato del Capitan Fredi. Ecco, allora ringraziamo anche la parte tecnica, ovvero Sergio Olivato. facciamo un applauso e questa sera c'è Federico, bravissimo, Federico, al posto del nostro amico Bruno, che non c'è, Bruno sta lavorando. No, con la Mazza Mauro. Eh? Dico, sta lavorando con la Mazza Mauro. Con la Mazza Mauro? Un'attrice che si chiama... La conosce lei, no? Ma ho un volume pazzesco in cuffia della musica. Va bene, adesso te la tolgo. Va bene, allora cari amici, abbiamo finalmente presentato il programma e il tema di questa settimana, sapete che ogni settimana è a tema, abbiamo scelto come tema l'inquinamento, i cambiamenti climatici, chioto, i contoni e l'abusivismo. Allora, lei conosce bene questi temi. Sì, soprattutto gli ultimi due, poi lei ci parlerà di chioto, mi ha detto. E infatti. Ecco, va bene. Allora, Mauro, già vedendo il pubblico in sala, c'è gente che è vestita in maniera bizzarra, perché qualcuno vede che ha maniche corte, altri hanno ancora il norvegese. Comunque tutti hanno vestiti dalla OVS, però hanno praticamente la grammatura differente, quindi ormai non si capisce veramente più niente di questo clima. Io guardi, non mi voglio togliere la maglia, non vorrei darle poi un dispiacere, non l'ho fatto comunque. No, già me lo sta dando, quindi voglio dire. Peggio di così. Esatto. Ma potrei più avanti, vedrai che riuscirò ancora a irritarla maggiormente. Ma, ok, però facciamola almeno a gradi, almeno dopo il quiz. Guardi, l'agghiacciamento insieme alla Rossana, mi stanno succedendo delle cose pazzesche, è come mischiare due psicofarmaci. Sì, va bene. Penso che, appunto, ritornando al clima, non si capisce più quale sono le stagioni, quanto il clima, anche qua dentro, non si capisce se la gente a caldo è a freddo. Ecco, c'è lì quel signore in quinta fila, quello vicino a tutti quelli che si stanno grattando, che è una maglia, che cosa è fatta quella? È un sacco. Cosa ne sale? Cosa si mette a fare? Ma è fatta, ma non è poco, poi c'è la sua di maglia. Cosa ne sale i tessuti, lei, poi che arriva... Infatti. Scusi, eh, questo... Guardi, la seta la conosce chiunque. Ma quale seta? La seta la conosce chiunque. Ma se quando se la toglie fa la scintilla, quale seta? E allora, cari amici, ci stiamo ponendo questo tema e per analizzare questo tema abbiamo dei valenti studiosi, perché ogni volta noi andiamo a fondo su un problema, noi che ci fermiamo, inquinamento, cambiamento, e poi mettiamo una donna nuda. No, perché molte parole... Certo, metto uno con lo spacco e va. No, noi andiamo a fondo, andiamo molto a fondo, avremo degli esperti. Infatti togliamo lo spacco. Andiamo avanti più che altro, andiamo avanti. Ma non lo guardi, vada avanti, ma perché si è messo lì lei? Non ho capito. Perché si è seduto lì? E infatti è lui che si è seduto lì. Ma beh, ma scusi, ma lei è già 15 anni. Ma perché non c'è frido, non c'è frido, non c'è frido. E infatti, piuttosto, non abbiamo detto, purtroppo, non c'è frido, ma poi in Svizzera, dove è? Non è che la gente, è vero, se n'è andata via perché non c'è frido. Ma beh, ma adesso non si mette a fare quello... No, senza aver detto non c'è frido, non è che si è svuotata la piatta. Ma a cosa c'entra adesso, siccome fa parte, diciamo, del nostro staff e non è qui questa sera, era carino ricordare. Era ricordare che purtroppo c'è anche chi non se la passa tanto bene. Ma perché? È in Svizzera, dov'è? Sta facendo un altro lavoro? Non la fa con il tempo. Fa contro la bandiere lui. Ma chi è che mi aveva detto che rischiava? No, forse, forse, si è salvato. L'U.B. scherza sempre su seconda, va bene. Allora, cari amici, a parte ieri sera, guarda, io ho scritto questi pezzi e ieri sera sono stato spiazzato perché era un paio di anni che a Torino non c'era più la nebbia. E invece? Perché non so se voi avete fatto caso, la nebbia è sparita quando la Fiat è sparita. Quando la Fiat si è andata di Torino si è portata via pure la nebbia. Perché la nebbia la faceva nel reparto carrozzeria. Vabbè, adesso è un po'. Invece adesso è tornata. L'ho riaperto nel reparto carrozzeria. No, l'ho portata all'Appentino. Ah, addirittura. Perché l'ho portata all'Appentino? Non lo so. Ma come ha fatto a portare? Perché la Fiat metteva la nebbia, così uscivi poco di casa. Ah, la metteva proprio. Andavi a dormire presto, poi la mattina andavi a lavorare. Andavi a lavorare bene. E la nebbia non si voglia. Perché la nebbia non esce. Adesso l'Appentino, che ogni volta che c'è una festa, lei c'ha le fobie per le feste. Io. No, l'Appentino. Ma perché c'è la fobie per le feste? Le ha tolte tutto, ha tolto per il senso di Giovanni. Non lo so. Sono successe delle cose. Non è che le ha tolto, le stanno cambiando. Non si vedono più le partite. Ma lei è tradizionale, sono delle partite da domenica. Ma quei tempi sono finiti. Deve avere proprio una fobia per il divertimento. Diciamo che abbiamo avuto anche forse dei momenti, avevamo l'epoca, si ricorda, quando avevamo... Eh, l'abbiamo detto due o tre volte, no? Che cosa abbiamo detto? Eh, non mi ricordare lui. Ma lui? Lui chi? È il sindaco dell'aperitivo. Minchia, chiamparino. Cosa succede? Ma con un sindaco che già ha un nome di un aperitivo. Adesso lei, questa è una sua fantasia che c'è. Ma scusa, chiediamo a quel giovanotto lì, al barman, barman professionista. Sinceramente, barman, se viene uno e ci faccia due chiamparini, un po' non ci pensi. Almeno vai lì su Wikipedia e vedi i chiamparini, quanto c'è il rum, che cazzo... I ginger, cosa le sono fatte col ginger. Ci sarà del vermouth. Il vermouth, eh. Giamparino era così, volete, 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 ma quello si sbatteva il cazzo, volete le olimpiadi, facciamo le olimpiadi. Ogni anno, facciamola ogni anno. Volete i murazzi? Eh? Volete i murazzi? Volete i murazzi, i porci e i cani, i murazzi. E vabbè, quelle sono cose che c'entra, sono anche epoche diverse. Sono epoche diverse, però quando andavi a quel San Giovanni lì era bellissimo. Ma sì, ma adesso che c'è, ma erano... Madonna, con i missili che ti usci un anno. E' impazzito, è esagerato. Era Beirut. Ma non è vero, è ora di farla finita con sta roba dei botti, comunque, questi botti, questi pochè. Va bene, va bene. Solo l'obbue fa questo. Non è tradizione. Il tuo palazzo è quella... Non si dice, non c'entra niente. La fanno, a limite mettono le cuffie. Al cane, ecco, però, le fanno, i botti si fanno... È vero, signorina, è vero. A limite mettono... Va bene, allora... Non indichi, scusi. No, perché... Si mette a fare... A me piace avere un contatto con il pubblico. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe. Andiamo avanti, cosa dobbiamo fare? Poi la signora è interessata. Appunto! A me quelle con l'età pensionabile mi interessano. Ma cosa c'è? Ma lei non ci vede. Anche se lei è più giovane. Non ci vede. Ma la smette! Comunque, a tal proposito, Mao, mi sono fatto proprio mantare dei vecchi filmati, delle vecchie immagini... Di cosa? Di come è cambiato il clima. Allora, la regia è pronta? Cioè, la regia è pronta, se è pronta vogliamo mantare. Ecco, la prima immagine, come in previsione sarà tra due anni il ghiacciaio dell'Adamello. E cosa c'è? Rimarrà solo questo del ghiacciaio dell'Adamello. Guarda bene. Cosa è uno scherzo? No, no, è vero. Sono studi scientifici, io li ho fatti fare al CERN. Un culo assolto. Guarda qua. Non c'entra niente quel ghiacciai, tra l'altro, il CERN. Va bene. Ecco, poi mandiamo avanti... Non è che perché stava in montagna... Com'era tanti anni fa il lungopomurazzi. Guardate che roba. C'era quello mica il lungopo, ci sono le palme. Guarda che bello. Ma dove l'ha visto? Guarda che bello che era. Ma è la sua fantasia. Ma quello in acqua chi è Giancarlo? Sì, che era andato a raccogliere un cliente che l'ha bevuto un pochino. Guarda che bello che era, Mau. Sì, sì. Bellissimo, bellissimo. E chiuderei con la vista panoramica di Torino negli anni... Ma lei dove abitava, scusi, in colline? Lì abitava. Lì abitava lui, che erano i lupi. Torino negli anni Ottanta. Questa era la vista. Era la villa frescotta. Ecco, va bene. Comunque, sono cose scientifiche. Sono cose scientifiche che a inizio programma mi piace sempre illustrare. E poi, per chiudere, volevo farvi, sì, sentire questo cantautore che ci stiamo affezionando a lui. Si sta affezionando a lei. Avete capito chi è? Addirittura. Eh, ditelo. Patrizio, bravo. Sì, ditelo pure. L'han detto. Ditelo in giro, eh, ditelo. Patrizio, che è un cantante che purtroppo è mancato, Patrizio. Che peccato, guarda. Nell'ottanta... Ma la smette, è cilico. Nell'ottanta e cinque pure. No, perché era una promessa. È una storia un po' misteriosa, comunque. Eh, certo, perché dava fastidio. Diceva delle cose anche scomode. Diceva, ecco, chiaro, tutti i grandi. Prima o poi, lei sa che fine ha fatto Jimi Hendrix? C'entra. Cosa c'entra adesso Patrizio con Jimi Hendrix? Eh, infatti, anche John Lennon, allora. No, va bene, John Lennon l'hanno visto. Sì, anche c'è che va, c'è che ci siamo. Va bene, ci sono dei misteri attorno a queste figure qua. Eh, Patrizio è sensibile alla natura, all'ecosistema. All'ecologia. All'ecologia, aveva scritto una canzone che aveva a che fare con i contoni. Con i contoni? Sì, perché lui diceva, è possibile che ci possa mai essere una discoteca nel mare? Detti a no, scusa. Ah. No, lei dovrebbe dire. Una rotonda sul mare. Madonna che idee che aveva questo. Eh, idee che aveva. Cosa c'entra questa con l'ecologia? E lui si era, no, dei contoni, ecco, dell'abusivismo. Ah, la discoteca abusiva. Quelle belle spiagge così, tu ti vedi una discoteca e ti dice, c'è sotto qualcosa. C'è una mafia. Adesso lo dico così, se no poi mi ammazzano. Ma non dico. Può esserci una mafia. Può esserci di mezzo. Quindi è una canzone di protesta. È una canzone di protesta, quella che andiamo a ascoltare, se pronta dalla regia. Godiamocela a pieno tutti. Eh, godiamocela. È una canzone di protesta di un grande cantautore, Patrizio, con una discoteca al mare. Non ce la può tradurre, per favore. Questo ombrellone tuo è diventato il confessionale di tutti gli innamorati. Qua è importante. Una notte per andare E lo esterno di noi due, l'amore lo porterà Dai, convinci la bambina Dai, convinci la bambina Dai, convinci la bambina E va bene, va bene Facciamone un applauso prima Facciamone un applauso prima Facciamone un applauso in freddo Va bene E quando ancora si cantava per un ideale Sì, la discoteca al mare infatti Quando ancora si cantava per un ideale Quando credo che mi abbia Il lavoro dell'otturazione che mi ha fatto l'ho rovinato con la Rossano Adesso cosa c'è? Adesso controlliamo E mi sta solo bene Durante la pausa Comunque io voglio ringraziare il mio staff Perché abbiamo, credo, lavorato bene Ecco, quando andate a casa Non vi sentite arricchiti di qualcosa Dite la verità Dopo roba forte Ma la smetta C'è gente che prende il calmante per dormire Dopo roba forte Perché il cervello Non sembra un complimento No, ma perché noi mettiamo in funzione il cervello Facciamo ragionare Il problema è che lo mettono solo loro in funzione Io quindi ringrazio il collaboratore Perché abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro Ma se lei ha intenzione di mettere un brano musicale Noi ci prepariamo Perché tra poco abbiamo il primo esperto Non voglio anticipare niente Ma credo che andremo a sbattere l'aeronautica militare E quindi sono cose delicate Rimanete con noi Rimanete con noi Grazie a tutti Grazie a tutti